ciao da andrea e davide buonasera siamo qui per invitati all'open house al parco morea di salerno apriamo per un pomeriggio le porte del parco morea a chiunque interessato avere informazioni sulle vendite le 5 villette giovedì pomeriggio 30 luglio dalle 17 alle 20 potrai venire senza necessità di preavviso basta venire in via a catrina calzigno numero 18 in località casa mazzo ovviamente a salerno ci sarà l'architetto sabato stianese e l'impresa rappresentata da pasquale pepe gli autori del parco saranno lì per rispondere a tutte le domande e curiosità e per intrescarci un po ci sarà davide davide cosa ci di buono ci proponi allora giovedì 30 vi proponiamo bevande e sorbetto a base di limoni della costiera marpita negli aspettiamo allora vi aspettiamo giovedì 30 luglio al parco morea ciao 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 ciao